bentornati su daynote oggi voglio proporre un video per quanto riguarda le regole presenti supplemento platenges 2020 dato che però il codex è veramente ricco di regole ho deciso di creare diversi video ciascuno con un focus su un determinato set di regole potete consultare tutti questi video andando in descrizione e c'è la playlist con tutte le regole a riguardo e ora possiamo cominciare ad andare a vedere le regole per quanto riguarda abilità del distaccamento per quanto riguarda il distaccamento dei platenges è un distaccamento ovviamente battle force in cui le unità hanno la keyword platenges tutte le unità con l'esclusione di quelle che hanno la keyword agent of the imperium and aligned ecco che però bisogna ricordare un distaccamento dei platenges e anche un distaccamento a dettus a status guadagnando tutte le abilità di staccamento relative incluse quelle che sono per esempio le combat doctrines quindi bisogna tenersi riguardo a questo inoltre si guadagna comunque l'utilizzo di stratagemmi e così via e poi si guadagnano altre due abilità essendo il distaccamento dei platenges savage echoes e the lost ecco che savage echoes permette che mentre la disciplina d'assalto è attiva ogni qualvolta unità combatte ed è stato fatto un movimento di carica è stato caricato ha effettuato un movimento di intervento eroico ecco che con unità risolve aggiungendo un uno alla creatrice di attacchi che ha a disposizione quindi diventa molto interessante soprattutto se combinato con la disciplina d'assalto in più bisogna ricordare che per quanto riguarda i platenges abbiamo il sangue nel piste quindi vuol dire che possiamo usare il calice di sangue il brad chalis per dare la possibilità di avere a qualità anche se non abbiamo in tutta l'armata quella che è l'assalto dottina attiva quindi la dottina d'assalto possiamo darla per comunità quindi attivando la dottina d'assalto e attivando anche savage echoes quindi implementando ulteriormente le opzioni di combattimento che quinta può avere quindi rendendo molto più flessibile molto di dinamica la cosa senza essere costretti ad aspettare il terzo turno per poter attivare la dottina d'assalto quindi dobbiamo tener conto di questa opzione perché può essere molto molto utile e poi abbiamo i perduti come abitare staccamento specifica per quanto riguarda i blood angels che se volete molto simile a quella che è la compagnia comando per quanto riguarda il codex delle space marine infatti abbiamo anche qui fino a un capitano e fino a due logotenenti nel caso si abbia il staccamento di blood angels in un'armata battleforged va ricordato che questo va a sostituire quello che è lo stato gemma che permetteva di avere lo stesso infatti ora possiamo dare grazie a questo a capitano e questi eventuali due logotenenti la keyword deathcompany dando un aumento di punti che è diverso però da capitano e logotenente invece per punti potere rimane lo stesso e qui capite perché a me non piace usare i punti potere perché non corrisponde a un equivalente in punti di diverso e inoltre va ricordato che questi personaggi della deathcompany possono essere messi in aggiunta a quelli che sono dovuti alla compagnia comando quindi si può avere sia un capitano della deathcompany per esempio che un capitano normale quindi non c'è questa problematica in aggiunta va ricordato che i personaggi che hanno appunto questa deathcompany come regola non possono essere il generale dell'armata e non possono essere dati a loro gli upgrade del comando della compagnia va aggiunto inoltre che questo capitano questo logotenenti cambiano quella che la loro abilità che diventa da ritirare gli uno per esempio per il capitano per tutti i tiri per colpire pari a 1 all'unità entro sei pollici ha soltanto l'unità della deathcompany core e invece per quanto riguarda il logotenente soltanto a quelli per quanto riguarda il tiro per ferie solo di nuovo per gli uno per la deathcompany core quindi sono limitati anche qui quindi da un lato guadagnano molto in impatto in capacità sia a livello offensivo che eventualmente a quello difensivo ma ci rimettono a livello di versatilità quindi sta voi valutare quali inserire e come d'altro canto questo vi permette anche di creare qualcosa di molto interessante perché potesse creare eventualmente praticamente un distaccamento basato sulla deathcompany avendo addirittura il personaggio che non può essere generale ma potete avere un altro distaccamento dove c'è il generale quindi non è quello un problema per quanto invece riguarda la parte delle crusade non si usano queste regole ma si usa un metodo diverso che è appunto nella sezione per quanto riguarda la crociata quindi diciamo che questo è un modo per caratterizzare molto la propria armata ovviamente sta voi valutare quali andare inserire quali preferireste però come abilità di distaccamento può essere un modo per implementare ulteriormente la varietà che avete di opzioni per far danno e di personaggi che potete andare includere ad ogni modo per questo video è tutto vi invito a mettere mi piace a iscrivervi al canale a suonare la campanella e a lasciare un commento se siete interessati ad avere specifiche e ulteriori video riguardo questo tipo di video oppure se siete interessati a semplicemente assinarmi qualche domanda o qualche video a cui potete essere interessati ad animo di tutto alla prossima